Ciao, sono Tommaso e faccio parte di Artemat. Noi siamo un'azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione di strumenti innovativi di simulazione manageriale per attività, per percorsi di formazione, selezione del personale ed employer branding. Siamo una piccola tribù di ingegneri gestionali, informatici, insieme alla nostra bravissima grafica, infatti curiamo pure molto gli aspetti relativi alla comunicazione. Il nome Artemat già esprime la nostra mission. Art sta per creatività, mat sta per la parte un po' più razionale. Nell'ottica di percorsi di gamification questi due elementi, creatività e modelli matematici, vanno a caratterizzare i nostri prodotti. Il nostro principale tool è il business game, nato da quasi tre anni di ricerca e sviluppo e che utilizziamo sia in ambito universitario sia in percorsi con aziende. Come funziona? I partecipanti vengono suddivisi in team da 4-5 persone e devono gestire un'azienda virtuale con l'obiettivo di incrementare il valore di mercato dell'azienda. In ambito universitario serve prevalentemente a potenziare le competenze tecniche degli studenti perché possono capire come funziona un'azienda a 360 gradi. In ambito invece aziendale lo utilizziamo prevalentemente in percorsi di recruitment. Infatti gli HR possono valutare in maniera più efficace le cosiddette soft skill dei candidati.